Elezioni regionali e terzo mandato. Tra le fibrillazioni in vista del primo appuntamento con le urne in Sardegna, tra indiscrezioni e smentite, c'è anche l'ipotesi dell'accordo nel centrodestra con la Lega che rinuncerebbe a candidare l'uscente Solinas in cambio appunto del terzo mandato che favorirebbe in primis il Veneto con Luca Zaia. Con gettura o ipotesi fondata lo si vedrà. Se la Premier ha rimandato la questione al Parlamento, la Lega ha colto la palla al balzo con la proposta di legge di Alberto Stefani, segretario della Lega, per il terzo mandato dei governatori. Una proposta che in Veneto suscita i malumori degli alleati che non hanno mai fatto mistero di ambire alla poltrona più alta di Palazzo Balbi. Al di là della valutazione nel merito della questione, fa un ragionamento strategico Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia. In Veneto come in Lombardia, se il centrodestra si presenta unito e candida una figura competente e capace, il centrodestra vince. Cioè il Veneto e la Lombardia e alcune altre regioni non sono contendibili. Il centrosinistra qua non vince. In altre regioni che andranno al voto nel 2025 e governate dal centrosinistra come Puglia, Campania, Emilia Romagna e Toscana, concedere il terzo mandato secondo Tosi favorirebbe il centrosinistra. In quelle regioni se io do il terzo mandato io agevolo la sinistra. Perché comunque vuol dire che loro hanno degli governatori uscenti che possono ricandidarsi e guardando le figure di Emiliano, di Monacini e di De Luca per dire avrebbero un vantaggio competitivo. E nel dibattito entrano oggi anche Anci Veneto e UP Veneto a supporto del terzo mandato per il presidente di regione, estendendo il discorso anche ai sindaci e all'elezione diretta del presidente di provincia. Chi ben amministra è giusto che possa, se ha la voglia, la forza e l'entusiasmo, possa anche andare avanti. Tanto poi saranno sempre i cittadini a scegliere chi sarà il presidente di regione piuttosto che il sindaco.